La microgravità permette di studiare fenomeni che a terra non sarebbero osservabili nello stesso modo. Per esempio, non essendoci la sedimentazione, le strutture crescono in maniera più regolare e questo è fondamentale, ad esempio nella cristallizzazione delle proteine, permettendo di studiare patologie e possibili cure, oppure nella costruzione in vitro delle cellule. E un altro aspetto molto interessante è che il calore, che influenza molte di queste reazioni, non si trasmette come a terra, perché in microgravità non c'è la convezione. Bisogna dire che i benefici della ricerca di base, sia in laboratorio a terra che sulla stazione spaziale, non sono sempre tangibili. Non c'è un momento eroico in cui l'astronauta scopre la formula per salvare tutti i mali dell'umanità, ma è un lavoro costante, è un lavoro che richiede l'apporto di una grande infrastruttura e ogni esperimento è un piccolo tassello per il progresso a terra. Se ci pensate, il solo fatto di mantenere un equipaggio in orbita per tutti questi anni ha spinto lo sviluppo verso la ricerca di materiali leggeri ma resistenti, la miniaturizzazione, l'energia fotovoltaica, i sistemi di purificazione dell'acqua. In questi anni assistiamo a una rivoluzione in questo settore. Lo spazio non è più prerogativa delle agenzie spaziali. Con la New Space Economy ci sono imprese private che creano nuove opportunità di accesso commerciale. Oggi si pensa anche ad uno sviluppo manifatturiero in microgravità. Si pensa di usare delle stampanti, anzi delle biostampanti, per creare dei micro-organi a partire da delle cellule umane o anche da un punto di vista più tecnologico le fibre ottiche prodotte in micro-organità potrebbero avere un'efficienza migliore.